Rieccoci qui e come anticipato prima non sono sola ma è con me la pastora Daniela Di Carlo che è il pastore della Chiesa Valdese di Milano. Benvenuta! Grazie, grazie. Sono molto contenta di essere qua con voi. Sono anche molto contenta che ho accettato l'invito e ti ho invitata principalmente perché ci tenevo tanto a parlare, a raccontare un po' che cos'è anche combinata la commissione di cui tu sei coordinatrice, ovvero la commissione fede, genere e sessualità che si occupa soprattutto della questione LGBT nelle Chiese. Sì, allora guarda intanto ti dico che nella Chiesa Valdese si è iniziato a parlare di questioni di genere già dal 1974 ad Agape dove in quell'anno nasce il primo campo donna, il primo campo femminista seguito poi dal 1980 momento nel quale un gruppo di persone cattoliche si rivolge all'allora direttore Eugenio Riguardi Agape chiedendo come gay di poter fare una conferenza alcuni giorni insomma di ritiro come cristiani gay. E quindi diciamo che da quell'anno in poi ad Agape nasce questo tipo di riflessione, nello specifico per le persone omosessuali. Poco dopo nasce anche però localmente nelle varie Chiese l'interesse a chiedere alle Chiese stesse se si sentono di accogliere le persone che per esempio amano altre persone dello stesso sesso e quindi un po' alla volta a partire direi dagli anni Ottanta sempre di più si sviscerà questo tema al punto tale che poi nasce una commissione nazionale che raccoglie le Chiese Battiste, Metodiste e Valdesi che ha diversi compiti. Ad esempio noi scriviamo la liturgia per la giornata contro l'omotransfobia ed è ormai una liturgia che è letta e usata non soltanto dalle Chiese protestanti ma anche dalla comunità LGBT cattolica italiana e una parte delle Chiese protestanti in Gran Bretagna e anche in Spagna. Quindi diciamo così abbiamo un po' di eco e questo ci fa piacere. E' importantissimo e insomma sì la Chiesa Valdesa ha questo merito di aver iniziato molto presto questa riflessione non è assolutamente scontato e ci sono quello che volevo anche sapere se ci sono anche altre iniziative della Commissione oltre appunto questa liturgia se però anche magari per coinvolgere o sostenere altri progetti di attivismo queer qualcosa così. Allora sì nel senso che da un lato c'è tutto un aspetto che riguarda le conferenze alle quali siamo invitati come commissioni perché in realtà in Italia c'è una comunità LGBTQ plus enorme, grandissima in particolare cattolica ma non solo e la parte cattolica a volte ha delle difficoltà a trovare ambiti e anche però un'apertura sia biblica che teologica con la quale confrontarsi quindi noi andiamo molto volentieri ospiti diciamo di questi momenti di confronto. poi c'è anche la scrittura degli articoli naturalmente ma c'è una cosa che ci piacerebbe che potesse essere incrementata vale a dire le consulenze che noi possiamo dare alle chiese locali perché ci viene chiesto a volte di formare i concistori o i consigli di chiese per poter poi parlare della questione LGBTQ all'interno delle chiese stesse perché si dà molto per scontata però a volte in realtà ci vuole tempo ci vuole un processo lungo ecco per arrivare effettivamente a una accoglienza reale e totale anche perché poi la comunità LGBT si arricchisce sempre di anno in anno di nuove terminologie per raccontare identità quindi bisogna anche sempre stare molto al passo, aggiornarsi quindi immagino che anche questo serva alle chiese qualcuno che le aiuti a seguire, a capire brava, infatti noi vogliamo anche molto lavorare sul linguaggio perché in realtà la domanda nasce dalle persone che vengono anche la prima volta nelle nostre chiese ti faccio un esempio molto concreto nella mia chiesa già da alcuni anni si sono avvicinate delle persone che stanno facendo una transizione cioè che passano da un genere all'altro e quindi a volte ci chiedono di essere per esempio identificate come persone non binarie perché pur facendo un passaggio verso l'altro sesso in realtà non si sentono appieno magari delle donne venendo da un mondo maschile o viceversa e allora io credo che quando qualcuno ti interpella e ti dice cioè come chiesa mi piacerebbe tantissimo che tu mi nominassi mi riconoscessi soprattutto e allora io penso che noi dobbiamo fare lo sforzo per avere un linguaggio che sia veramente inclusivo di ogni differenza anche quella che esce diciamo da questa norma che è la norma delle norme che riguarda appunto l'eterosessualità è importante perché penso che per tantissime persone si ha un grande bisogno potersi appoggiare ad una chiesa seguire una qualche fede quindi se riesci a trovare un posto delle persone che le accoglie le fa sentire capite e incluse sia molto importante c'era però anche un'altra questione che volevo affrontare con te oggi perché so che sei anche teologa femminista ti interessi quindi anche tanto di tutti i diritti delle donne il movimento femminista e infatti volevo anche ricordare abbiamo tutte e due la spilla oggi che oggi è il giovedì in nero questa campagna per sensibilizzare contro la violenza sulle donne e simbolicamente ci si veste in nero proprio per supportare questa causa e volevo anche chiederti che cos'altro possono fare le chiese proprio per aprirsi anche al movimento femminista e quindi insomma che ruolo può avere all'interno di questo movimento allora io credo che ci sono diverse azioni che si possono fare la prima, quella proprio più elementare e semplice è quella di avere all'interno di ogni chiesa il posto occupato cioè degli elementi diciamo rossi che possono essere una borsa, un paio di scarpe, un vestito che stanno a rappresentare che in quel posto potrebbe esserci seduta qualcuna se non fosse stata uccisa attraverso un femminicidio questo perché bisogna tenere sott'occhio il fenomeno del femminicidio e come chiese noi dobbiamo impegnarci fortissimamente quindi questa è la cosa basilare la seconda azione che nelle chiese può essere fatta è quella sotto diciamo intorno alle date del 25 novembre e dell'8 marzo fare delle iniziative anche di carattere positivo per esempio non lo so, noi a Milano abbiamo ospitato una mostra che riguardava la raccolta dei vestiti delle donne nel momento in cui sono state violentate che è una roba molto forte perché effettivamente si vedono dentro delle teche dei vestiti così come sono i miei e i tuoi cioè non ci sono dei vestiti particolari però è veramente una sorta di schiaffo perché ci fa capire come per esempio la violenza sulle donne avvenga a persone normali a persone veramente comuni come lo siamo noi e quello è un esempio ma ci possono essere molte altre mostre abbiamo l'anno successivo ad esempio invitato una scuola di ballo fatta, composta da donne che hanno rappresentato la forza delle donne che combattono dopo aver letto sul giornale di un esempio di stupro e allora le ballerine hanno proprio fatto questo balletto lungo tutta la lavata della chiesa per ricordarci appunto quanto sia importante vegliare che non ci siano diciamo dei cali di attenzione su questo tema naturalmente poi è auspicabile che anche gli uomini inizino a avere diciamo degli spazi separati nei quali si interrogano sulla propria maschilità anche raccontandosi e dicendosi quegli stereotipi nei quali si sentono imprigionati l'uomo forte, l'uomo che non piange l'uomo che se picchia è veramente un uomo tanto osservato tanto piaciuzzo ecco cose di questo tipo perché la maschilità deve essere qualcosa di nuovo ecco anche in particolare affinché possa essere insegnata alle nuove generazioni grazie mille e poi naturalmente l'ultima cosa aderire a tutti quei momenti di manifestazioni di piazza in particolare noi come a Milano aderiamo a quelli di non una di meno ma insomma ovunque ci possono essere momenti abbiamo detto l'altro pomeriggio io e Arianna proprio questo che serve che facciano sentire la loro presenza la loro voce perché se siamo tutti insieme siamo più forti quindi si può cambiare più in fretta la società questo è anche importante ti ringrazio davvero tantissimo mi ha fatto molto piacere e buon lavoro grazie buon sinodo grazie mille 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 grazie mille